salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di the sims 4 oggi voglio tornare dai nostri sim ovviamente e addornare un pochino per natale un po le case e voglio fare sta cosa perché siamo oggi il primo dicembre voi vedete questo video credo il primo dicembre non lo so ma forse domani non lo so non so quando uscirà questo video in settimana va bene e voglio addornare un pochino le case dei nostri sim partiamo dai conti anzi andiamo da inizio così vediamo anche un po come stanno chiede un bel po che non andiamo e dobbiamo anche sistemare un po un paio di cose per la loro storia diciamo credo di aver rimesso la moto delle droghe perché è stata aggiornata l'ultimo aggiornamento e quindi credo di averlo messo e posso continuare a raccontarvi la storia di alessia ma questa puntata non parleremo di nessuno ma andremo ad addobbare soltanto allora diamo un po però loro sono abbastanza poveri cacchio sono poveri allora vediamo un po cosa possiamo permetterci di povero metto oggetti pack festività ma davvero ci possiamo permettere dai davvero è possibile per metterci lo mettiamo proprio non passano alla fine facciamo questo scusami piccolo aspettavo questo spostiamo questo in questo lo mettiamo quindi qua voglio metterlo di quale altro ci sono altri colori però io voglio metterci qualcosa di passare fuori però i più grandi basta non abbiamo più soldi quindi abbiamo già messo per loro tutte i per loro abbiamo già addobbato loro sono poveri non possiamo addobbare tanto mi dispiace ma è così poi questo video è proprio per decorare decorare e il prossimo video sarà un po più fum 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 allora poi la prossima casa da addobbare la prossima famiglia sono le tre coinquiline sono loro sono le onanno e vediamo un po quanto riusciamo ad addobbare questa casa 2.834 semolio non vediamo un po cosa riusciamo a fare allora un albero allora l'albero lo metterei qui come sotto scala mi piace come l'idea come l'idea hashtag come l'idea mi piace come idea quindi andiamo a riselezionare festività allora 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 l'albero ovviamente allora io metto così no non ci sta sotto scala e dove lo metto no così in mezzo in mezzo facciamo una cosa allora allora diamo un pochino la casa allora diamo un pochino anche qui la scala la spostiamo qui e qui ci mettiamo l'albero così andiamo a mettere un po' di regali ok perfetto non so che sia questo qua niente di metterti anche il cammino bello ragazzi però c'è un altro colore che si addirittura all'albero solamente così ok un bel cammino questo lo mettiamo fuori ma non c'è spazio ah vabbè basta un picciniello perfetto sul tavolo ci mettiamo le quattro candele festive riusciamo a mangiarci? speriamo di sì vedo ovviamente per angolino grazie adesso lo mettiamo qui vicino alla porta ci mettiamo la ghirlanda se si può ci mettiamo la ghirlanda così vediamo un po' se che altri colori ci sono no due colori ecco bellina questa qua giusto per chiamare in tema questo albero qui e l'albero dentro e poi voglio mettere tre di questi basta basta perfetto anche questa casa è addobbata perfetto ora andiamo da e dei martiri sono scomparsi andiamo da Nicola Conti e il suo bellissimo compagno compagno perché non sono ancora sposati per il resto li faremo sposare da suoli per il resto li faremo sposare quindi andiamo dai nostri Comptin e dal nostro Federico Longo che credo che cambia il cognome perché Longo mi fa veramente vomitare come come no come cognome suggeritemi un bellissimo cognome sotto nei commenti dai almeno ho qualcosa da dare non è spanico perché non è spanico lui è bianco cade verico allora loro sono già un po' più ricchini quindi possiamo già addobbarlo un pochino di più nella loro casa allora iniziamo filtro oggetti pack festività allora l'albero a tutti si vuole allora facciamo giallo e oro perfetto mettiamo un po' di pacchi perfetto poi un camionetto anche a loro che si sta da dio qua poi fuori facciamo mettiamo un po' di neve però io lo vedo un po' più grande lo mettiamo qua il nostro che rinomineremo Olaf poi una bellissima chirlanda sopra poi ci mettiamo questo tuttavo ma io ho paura che poi non riesco a mandarsi non ci serve grazie a questo sulle finestre ma questo sentiamo tutto con il Natale perfetto perfetto vedo che posso andare bene così ma va bene va bene va bene guardate che bello qui si può anche proprio accendere questo posso osservare va bene allora gestici scenari salve va a gestici scenari dovremmo andare alla nostra mercuri a fare l'addobbo quindi aspettiamo che ci carica e andiamo a dare la nostra mercuri 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 sta a oase springs si eccola qua qui ci sta la nostra mercuri andiamo dalla nostra venere e niente dobbiamo la casa che ha un po' quanti soldi ha secondo me possiamo permettere solo l'albero ma vabbè che poi lei mettiamogli solo l'albero perché lei non è che proprio ha mai festeggiato il Natale ha visto tutti i suoi amici nessuno addobbare perché si ha il cimitero ehm è il cimitero era il cimitero non c'è nessuno non so perché si ha il cimitero ma va bene secondo me si può permettere solo l'albero ma facciamogli a fare solo l'albero l'albero visto che lei non è proprio umana umana poi ha anche pochissimi soldi lei non è umana e quindi lei non sa cosa sia il Natale e lo dobbiamo far scoprire però lei però scusa ah ma lei non c'ha la tv no lei è senza tv ragazzi e vabbè con tutte le tecnologie che c'ha lei scusami può vedere anche la tv allora filtra gli oggetti pack festività lo mettiamo normale dell'albero lo mettiamo lo mettiamo lo mettiamo no lo metto così ok e basta magari i pacchettini così che è più carino fatto e toglie la ghirlanda la ghirlanda la ghirlanda e basta ah perché l'ho mossa ok e un pochi altri colori ci stanno magari mettiamo così sto per e basta basta direi che per lei può bastare visto che lei beh vedete voglio fare una foto avrebbero illuminato aspettate aspettate perfetto va bene dai io direi anche basta per la puntata posso solo decorare un pochino con voi con quelle case quindi lascia un mi piace un commento se vi è piaciuto iscriviti al canale noi siamo in prossimo video ciao a tutti ciao